Un garage utilizzato come stalla di un cavallo e droga nascossa in un locale attiguo è quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontana Rossa nel corso di alcuni controlli svolti con il supporto del XII Reggimento Sicilia e del nucleo Cinofili di Nicolosi e l'ausilio del personale veterinario dell'Aspetnea nel quartiere catanese San Giovanni Galermo. I militari hanno potuto riscontrare l'impiego del garage di proprietà di un 48enne pregiudicato in alloggio per il cavallo la mancata registrazione del locale utilizzato come scuderia ma anche l'omessa registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Animale sprovvisto pure di microchip mancanze queste per le quali l'uomo è stato sanzionato per un importo pari a 1800 euro. Il cavallo invece è stato visitato dai veterinari dell'Asp è trovato in apparenti buone condizioni generali di salute è stato affidato in custodia al proprietario che dovrà quindi trovare un alloggio adeguato per l'animale. I controlli dei carabinieri hanno riguardato anche un locale attivo al garage dove grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati trovati 700 grammi di marijuana divisi in 6 bus una pistola a giocattolo senza tappo rosso e con caricatore senza colpi. La droga e l'arma sono state sequestrate sono in corso le indagini e gli esami tecnici volti ad accertare la loro provenienza.